signore e signori buon pomeriggio guardate siamo in una nuova location siamo qua in riva al mare ad albisola a dire il vero siamo a celle perché siamo proprio al confine abbiamo qua ospite paolo peregrino ciao paolo allora paolo hai visto che bella location qui all'hotel torre di albisola dove sono di celle dove sono esposte anche le tue opere che poi abbiamo già pubblicato salutiamo tutti gli artisti che ha fatto una che una mostra di una chiesa recentemente anche lui aspetta salutiamo aspetta poi tutti quelli di milano si si la alessia alessia artoni alessia artoni cinzia viola cinzia viola che l'ho vista la volta scorsa a savona a sanna quindi e beh ricordiamo che adesso ci vedremo poi tutti a settembre che ci sarà una grande mostra e paolo tu hai avuto un grande riconoscimento a savona perché il primo per arte pubblicata che ricordiamo le tue opere sono rintracciabili ovunque su tutti i più cataloghi importanti internazionali tra cui mondadori danichelli io arte quindi paolo per non smentire questo tuo lavoro di pubblicare le opere siamo qua oggi per vedere un'altra tua opera d'arte in campo fotografico fotografico si tu hai viaggiato molto no ma no si 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 sempre qua si parla di viaggi molto vicino comunque si vedono alcune chiese sempre della io sono molto appassionato ecco vogliamo vedere questi posti che tu hai visitato e poi anche svelarci i trucchi di come tu realizzi questo cominciamo dall'inizio così vediamo anche l'album di per sé che è un grande album amici telespettatori guardate paolo per il con che cura ha questo bellissimo album di pelle è un grande collezionista anche di album fotografico ma guardate che opera anche l'album come tutto dorato ma l'album l'ho comprato e non costa neanche tanto sono album economico però sono fatti bene il rapporto diciamo che rapporto qualità prezzo elevato anche perché c'è consiglia facciamo un po di pubblicità andate se volete delle foto bellissime andate a sesto iponente da foto video suono dietro la chiesa dell'assunta dietro piazza parola che inviace romenotti perché sono bravissimi vediamo che tu crei sempre queste grandissime opere d'arte fotografiche guardate amici telespettatori che spettacolo importante che paolo ha realizzato ecco vorremmo questa è la chiesa sono tutti riaffreschi ecco questa qua che chiesa è paolo dove si trova a briga si scende a 20 miglia con l'autostrada e poi si va su per la varroia a un certo punto prima di tenda c'è la deviazione a destra briga ci si arriva comodamente dato che questi posti non sono facilmente rintracciabili non sono ma no ci si arriva in questo modo tu da chi hai avuto la segnalazione che c'era questa ma io ho cominciato nel 95 quando col secolo erano uscite col giornale erano uscite l'itinerari fuori porta di genova imperia savona e la spezia ho capito e ho cominciato a scoprire tutte queste meraviglie che c'era c'era una bella cosa e ne mettevano anche queste oltre confine e poi mi sono documentato hai fatto un percorso visitabile ecco che noi vorremmo che poi tu alla fine di tutti questi giri crearsi un tuo percorso e ci consigliassi a tutti il percorso da fare per vedere quanti paesaggi bellissimi la chiesa questo di questi di questi album di tutte le foto di questi album fare un libro ecco con tutti gli itinerari con gli itinerari gli orari dove chiede dove telefonare perché tu mi hai detto orari non è semplice perché di solito la bellezza di vedere questo è anche la difficoltà di arrivarci perché bisogna telefonare prendere appuntamenti perché di solito sono chiuse sono aperte a posto mi dicevi di tempo che c'è a dolce acqua una chiesa bellissima e devo aspettare che organizzino un tour nel paese ecco perché se no non si può vedere così non si può vedere come mai in italia non sono valorizzati questi monumenti perché la maggioranza delle persone vanno a vedere il borgo medievale vanno a mangiare vanno a fare la mangiata vanno a fare le foto il selfie così però poi non entro nei particolari diciamo forse ecco sicuramente molti turisti molte persone artisti tedeschi olandesi che hanno scelto di vivere in questi posti l'hanno valorizzato l'entroterra ligure ma non è anche perché pochi amministrati pochi tanti appassionati come me che però non è semplice visitarle ma infatti ci vorrebbe anche degli appassionati no che apprezzata di questo album deriva anche da cose notre dame des fontaines è semplice ma si può visitare solo dal primo maggio alla fine di ottobre perché poi tu dovrai darci queste indicazioni perché poi noi tu semplici turisti partiamo sicuri di dove andare siamo qua a 40 gradi oggi siamo in riva al mare ma c'è un leggero venticello che ci fa compagnia ecco paolo con questo tuo libro in questo tuo libro che tu farai dovrai darci tutte le indicazioni per raggiungere facilmente questi posti perché altrimenti noi ci parliamo poi tu i numeri di telefono si si esatto perché tu poi dai dai vai vai giriamo vediamo guardate amici telespettatori che meraviglia e poi ecco parlaci anche della tecnica con tu di queste foto io faccio stampare le foto io cerco di fotografare in sequenza stampo le anche perché uno potrebbe dire ma fai più presto a farlo elettronicamente ma la definizione non è la stessa il laresa non è la stessa qua veramente hai una risoluzione pazzesca sono manuali sono manuali io preferisco comunque di questi faccio la foto 10x15 poi ritaglia città è tutto un taglio e guardate amici telespettatori cosa viene fuori da questi album di paolo peregrino la luna 200 ma tutti i personaggi che deve vedere poi scrive tutti i nomi aspetta vediamo ecco questo è un ingrandimento ho fatto anche la composizione questo è il giudizio universale di cannavesio guardate ha terminato proprio il giorno della scoperta dell'america il 12 ottobre 1492 guardate paolo conosce tutti questi nomi a memoria perché vi dico non sta leggendo da nessuna parte a memoria questi nomi quindi veramente un cervello elettronico paolo vabbè diciamo diamo a cesare qualche di cesare tu dovresti fare la guida veramente anzi se qualcuno dei nostri telespettatori vuole visitare questi posti si può aggregare a paolo peregrino perché tu fai prossimamente farai altre giri un tour prossimamente il 25 luglio con un mio amico forse qualcun altro un altro mia amica andiamo a fare un tour in francia avete già un itinerario il tour delle cappelle dipinte ma poi è bellissimo anche il paesaggio perché sono alpi marittime di molti di 3.000 metri sono natura in giornata in una giornata l'unico neo ai amici telespettatori che vi dico ma questo perché io sono ma questo è un problema mio di fare una giornata sì no no ma il fatto mia madre a casa anziana e non poi arriva da quello dicevo ai nostri amici telespettatori che si vogliono aggregare a paolo peregrino l'unico neo che si devono svegliare presto perché voi partite dipende a volte poi magari puoi anche incrociare lungo la strada intorno alle 5 del mattino che c'è più fresco tra l'altro guardate questo che bello questo incrocio anche con le mie pitture mi sono ispirato un po a questi diciamo a queste queste fasi ma sì perché questo è il maestro canadesio tu sei anche una grande artista tanto devo inchinarmi di fronte a quest'arte però i personaggi che tu crei sono un po simili e volevo girare un po vai vai avanti tranquillo così guardate amici telespettatori che incroci di personaggi qualcuno poi fa anche una bruttazione impiccati tagliate le testa e si incrocia si è molto psichedelico in un certo senso è un po neogotico e ha qualcosa anche di sturm und anche perché poi tra l'altro è collegato anche con qualcosa di fiammino questi vittori tardogottici piemontesi sono anche collegati con qualcosa di fiammino mostriamo i principali guardate questa che bella sì tanto io giro 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 io faccio vedere sì vediamo un po ecco sempre la nostra dame della fontaine la nostra signora delle fontane la madonna delle fontane esatto e ci sono queste meraviglie visitabili ecco vediamo andiamo avanti vediamo la navata completa della chiesa ci arriviamo ci rendiamo conto di dov'è questo 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 posto bellissimo poi anche qua guardate questo questo incrocio di fotografie l'ultima cena ce n'è un'altra attaccata queste sono praticamente sette fotografie che ho ritagliato e fuggito che spiegano bene la storia ecco mi dicevi che questa ultima cena è prima di quella di leonardo da vinci no si è prima però non lo non sono sicuro sei sicuro comunque però è diciamo che a me affascina particolare questa cultura questo stile poi un po diverso un po le critiche per carità leonardo da vinci non sono degno neanche di paragonare le scarpe però poi tu sei nato oltre creato dei personaggi prendo spunto da queste da queste immagini la cosa diversa vedremo la l'ultima cena di paolo pellegrino paolo non è ancora fatta l'ultima non lo fa con i due personaggi non l'ho fatta la meravigliosa notre dame de fontaine interno tutta la navata ed è favolosa fantastica soltanto il soffitto è barocco perché poi tutto il resto è tanto l'ottico è meravigliosa la natura innanzitutto si parte si scende a 20 miglia con l'autostrada si va tutto su è una valle stupenda con rocce rapide la natura è meravigliosa c'è anche la possibilità di fare dello sport di canoa in quella valle molto bello molto bello ci stai dando delle belle indicazioni andiamo avanti questo me lasciamo stare questa è sempre la stessa cosa sempre andiamo avanti vediamo gli esterni anche di questa ah ecco qua questi sono questi sono molto interessanti vedete queste immagini molto cruenti molto forti si molto hard ecco gli esterni ci siamo ecco questa è la parte esterna vedete la natura che bella natura che c'è si 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 guarda che bella chiamata si vedete anche qua è immersa questa è la chiesa immersa in una natura da fiaba meravigliosa questo sembraerebbe ecco il luglio bello sempre così bellissimo vediamo qua si c'è sempre qua mi sono anche ho preso i visi il primo piano che sono molto interessanti ecco bello allora andavanti così vediamo così, questa è la parte posteriore con il giro, vedete, in una vi si vede anche a me, ecco questi, tutti questi visi, questi sono bellissimi, guarda questo volto, femminile, mi pare, è meraviglioso, come c'era nel periodo che rimasti mascherato, è nato zero, questa è l'ultima cena di Canavesio del palazzo, terminata il 12 ottobre 1492, la scoperta dell'America, no Paolo, la scoperta dell'America, no, la scoperta dell'America, vedete qua, e guarda che qua ho tre foto, lo incollate, guardate qua, salutiamo Giancarlo, Giancarlo, sì, l'altro partecipante al tour, un amico, salutiamo Giancarlo, ecco, questo è veramente angosciante, molto, ci sta bene una musica psichedelica, anche barocca, dei goblin, la musica dei goblin, dei goblin, la musica dei goblin, eh, eh, grazie a contempo, vedete qua, sono meravigliosi, sono affreschi e tra l'altro tenuti benissimo, ecco, adesso stiamo arrivando alla fine di Briga, ci sarà un'altra, ci sarà un'altra visita, giusto? che tu hai creato, guardate qua, che meraviglia, perfetto, questi affreschi, guardate qua, questo è, guardate, gli interni, un po' la chiesa nel suo insieme, perfetto, guardate qua anche gli spettatori, c'è da dire che io, diciamo, ho una religiosità, non è che sono così religioso, ho una religiosità particolare, mi piace, mi piace il Vangelo, mi piace, ogni tanto vado a qualche, qualche incontro di preghiera, una cosa, cerco sempre cose alternative, però io posso essere cristiano come gambiano, amante delle cose per la pace, però in queste chiese qua, la tua fede si rafforza o cala? no, la mia fede, la mia fede, potremmo dire, il mio, la mia ricerca di seguire le orme dei grandi profeti pacifisti, diciamo così, poi Gesù può darsi benissimo che fosse figlio di Dio, sì, ma per portare degli uomini di 700 anni fa a dipingere questi muri con queste opere d'arte, ci voleva tanta fede, tanta fede, veramente, perché se no, fede è anche voglia di fare, lasciare i posteri qualcosa di bello, è un po' la concezione di Ugo Foscolo, quella del dramandale, di lasciare i posteri, quindi dici che loro lo facevano sia per la fede, oppure per la fede dell'umanità, bellissima, a fede nell'umanità, cioè credere nel futuro, certamente, io giro, eh, vai, 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 ah, guardate, questo l'ho composto io invece, ho fatto una composizione di varie foto, è il giudizio universale, come si intendeva ovviamente al tempo, ecco, qui siamo, ecco, qua siamo alla parte, guardate che meravigliosa natura che c'è fuori dalla chiesa, qua è un po' ancora, e qua inizia invece la collegiata di San Martino, sempre di Briga, Briga Marittima, che ci si arriva sempre da terra, guardate la natura che meraviglia, di Alpi, Alpi Marittima, stupende, vediamo all'interno, guardate qua che paesaggio meraviglioso, questa è una chiesa piena di dipinti importanti, di Ludovico Brea, di Giovanni Canavesio, e di tantissimi altri pittori molto importanti, ecco, ok, allora, vedete qua ci sono altre opere, meravigliose, guardate qua che meraviglia, guardate anche la chiesa com'è bella, è venuta bene, eh, sì, 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 collegiata di San Martino, collegiata di San Martino, io giro, vado a fare veloce, questo è un ingrandimento, questo è un dipinto di Ludovico Brea, della collegiata di San Martino, questo all'esterno, e questo invece siamo a Saint-Etienne-de-Tinè, guardate la valle della Tinè, abbiamo cominciato il giro, il tour delle cappelle dipinte, nell'entroterra di Nizza, e qua è interessante la piede di San Sebastien, San Sebastien, di Saint-Etienne-de-Tinè del Quattrocento, perché è affrescata anche all'esterno, e ricorda certi monasteri della Romania, della Bucovina, sono bellissimi, qui vicino vedete si sta vendendo una casa, quindi qualcuno può essere interessato a comprare, vedete qua con la parte esterna, bravo Paolo, gli affreschi esterni, e qui siamo a quanti chilometri da 20 miglia? da 20 miglia, qua siamo a 120, 120 chilometri, quindi da uscita dell'autostrada, guardate, siamo partiti da Genova alle 5, e siamo arrivati là alle 9 e un quarto, 4 ore e un quarto, quindi avete fatto l'autostrada fino a 20 miglia? fino a Nizza, fino a Nizza, poi si scende a Nizza e si segue, per quanti chilometri? per 100 chilometri, no, 90 chilometri, tutta strada diciamo percorribile, questa è l'interno di questa chiesa meravigliosa, vedete Paolo, guardate qua, gli affreschi interi, guardate che cappelle meravigliose, di tinte, altro che la cappella cistina, no, vabbè, non si tocca, però vedete, comunque qua mi crea, un fascino notevole, questo tipo di arte, vado, vado veloce, vediamo un po' questi, qui siamo a Sant'Etienne, a Sant'Etienne, a Tinea, a San Sebastiano, bellissimo, dai, San Sebastiano, questa qua, ecco, sempre San Sebastiano, all'interno, dipinti da Canavesio, e Valenzoni, che inizia, qui vedete l'ispirazione dell'uomo del passato, che ci sta dando, dei risultati ancora oggi, qua invece è San Dalmassele Salvage, vicino a Sant'Etienne, questa è la parocchiale, molto interessante, questo è l'interno della parocchiale, vedete, questo è un dipinto, è un trittico, guardate l'altare, l'altare è fantastico, sembra un po' un retablo spagnolo, sembra tutto dorato, sembra tutto un, sì, un'azzurena, un retablo spagnolo, eh, ma all'interno c'erano delle guide, c'era qualcuno che vi dava delle indicazioni, Paolo, all'interno di queste chiese, c'era la guida che spiega tutto, ah, non in tutte, però in molte sì, c'era la guida, basta prenotare la visita, ma nelle lingue, italiano, francese, sì, anche in francese, ma parlava piano, quindi sì, si capisce, bene, quindi uno non si parla di nessuna, guardate che meravigliose montagne, che ci sono, vedete, guardate che montagne splendide, questa la chiedo in San Marguerite, bene, bello, San Marguerite, ecco qua, è un affresco dentro, la chapelle de San Marguerite, bellissimo, e poi c'è questa cosa qua, questa composizione della fresco, ah, ecco, ce la spiega, ce la parlo, questa qua è l'ho fatto, sono dodici foto, tutte incolate, ritagliate, tagli e cuci, bello, e questo è tutto l'affresco, bellissimo, facciamo una visione di insieme, ah, quindi tu sei, oltre che essere fotografo, sei anche artigiano, artigiano, delle composizioni, della fotografia, è bello, perché hai creato una tua tecnica, perché riuscire a comporre, manualmente, diciamo, queste opere, ci vuole del talento, della visione, dell'arte, perché devi saper interpretare, il senso di chi ha fatto l'opera, tu la riporti in maniera fotografica, complimenti Paolo. Guardate che meraviglia di figure, sono un po' leggermente. Dicevi che volessi anche che un regista, prendesse spunto da queste foto, per fare un film, e creare questo, hai avuto tu l'idea. Eh, l'idea, sì, daremo, diciamo, una storia, io l'idea ce l'ho, però, trovare un regista, chissà cosa faremo, ci proviamo. Sì, proveremo anche gli attori, guarda che bella questa. Magari, su Dio, che manda giù, sua figlia, la figlia, la figlia, facciamo una cosa, senza pretesa di voler cambiare niente, non è che, però un film, ovviamente nell'ottica di un film. Perché no? La facciamo nascere. La libertà di espressione, no? Sì, libertà di espressione. Questa invece è la chiesa di Santerice, ad Auron, che è stazione scistica, vicino a Santerice. Bellissimo, siamo arrivati quasi alla fine, no Paolo? Ecco, quindi allora continuerai il tuo album, Siamo ai saluti Paolo, tu hai tanti amici. Saluto, allora innanzitutto oggi, vediamo, saluto un po' tutta la ex compagnia, con cui ci siamo visti, il 26 maggio, in pizzeria, a cui manderò il video, e li saluto, molto volentieri, li ricordo sempre, i nomi li conosci, i nomi, i nomi, i nomi, i nomi, i nomi, i nomi, Cristina, Sergio, Silvia, Claudia, e anche Alessandro, ci voglio mettere, malgrado non sia più con noi, come mai, cosa è successo? Eh, perché è mancato, così giovane, no, insomma, era un'altra età, no, a 56 anni, più giovane di noi, è stata una cosa molto tra, purtroppo Paolo, è come se rimanesse tra di noi, noi siamo fatturati, una persona veramente, a cui abbiamo un ricordo meraviglioso, guarda, e quindi, e quindi, ci voglio mettere anche lui, poi, Franco, la moglie di Franco, Massimo, Rosanna, Silvia, Claudia, Daniela, e tutti, Vico, e tutti, e poi saluti, i soliti, i soliti, i grandi, i miei ammiratori, delle mie opere, e grandi amici, che sono, che sono Stefano e Michele, i miei colleghi, anche di scuola, ecco Paolo, oggi siamo qua, e soprattutto un augurio particolare per Claudia, che domani è il suo compleanno, tra un po' è il tuo, Claudia fa parte della mia compagnia, tra un po' è il tuo, il 13 luglio, manca poco, manca poco, ti facciamo già gli auguri in anticipo, grazie, e salutiamo tutti qui dall'Ottentore di Cere Ligure, che oggi è la nostra location, e tutti gli artisti che hanno partecipato, e salutiamo anche Vanatagini, 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 e Pinuccio, Pinuccio, e poi anche Paola Bradamante, ah Paola Bradamante, in particolare lei, è appunto, lei diceva fare un saluto speciale, è che lei è sempre in giro, ha voglia di venire a trovare, ci rivedremo tutti durante l'anno, e prossimo appuntamento a settembre, poi magari prima faremo un altro video, magari sì, ciao Paolo, puoi chiudere, puoi chiudere tu, guarda, ciao a tutti, che c'è una bella, ecco aspetta, presenta qualcosa, che tu saluti, ecco questo è Luigi Ceruti, il nostro coordinatore, della nostra associazione, Varaggio Arte, Galleria d'Arte, bravissimo, bravissimo critico, un saluto.